A 31 giorno, nel momento in cui, dopo varie sellecitazioni, la famiglia non ricarica la card, in teoria viene sospeso il servizio mensa. Naturalmente l'augurio è che non si sospendi, perché se fosse il genitore responsabile sa che a 31 giorno il bambino non può mangiare, può decidere se farlo mangiare diversamente. Farà sicuramente discutere questo nuovo regolamento nelle mense comunali delle scuole di Montevarchi approvato recentemente dal Consiglio Comunale. Un pugno di ferro inevitabile, secondo il sindaco Silvia Chiasai, per far rispettare le regole. Noi abbiamo dal 2011 al 2016 scontrato 531.500 euro di insoluti. Per evitare altri ammanchi, l'amministrazione comunale da settembre introdurrà una card prepagata. 31 i pasti minimi da cui partire con la prima ricarica e una volta che la card sarà al verde, se così si può dire, il servizio mensa, un po' come la corrente elettrica, sarà sospeso. Il genitore che non ricarica la card si prende la responsabilità di mandare a scuola il figlio senza il pasto. Siccome chi non può sostenere il costo della mensa o del trasporto, perché vale per entrambi, è seguito dai servizi sociali e quel pasto viene coperto dai servizi sociali totalmente o parzialmente in base alla condizione economica della famiglia. Quindi chi non può è tutelato. Una posizione fortemente contrastata dal consigliere di minoranza ex sindaco di Montevarchi, Francesco Maria Grasso, tra l'altro anche insegnante. Io volevo votare a favore del regolamento, ad eccezione di un articolo in cui si dice al 31esimo giorno si stacca il servizio, cioè il bambino si porta il mangiare da casa. L'ora di pranzo è didattica, è scuola e per le colpe dei genitori non si dà da mangiare a un bambino, è una cosa che io credo nella mia città non può e non deve e non dovrà succedere. Io per quello che ho fatto da ex sindaco mi assumo la responsabilità dove con le azioni esecutive possiamo essere stati o potevamo essere anche più incisivi, più veloci. Non hanno pagato queste famiglie? Naturalmente si fa le esecuzioni, si fa i pignoramenti, ma ai genitori, ma agli stipendi, ma alle case. Se vado a prendere le case, vado a pignorare le azioni, non che toglie il mangiare ai bambini.